Buonasera a tutti, ho veramente piacere questa sera di ritrovarmi per questo appuntamento di diritti al punto che come sapete è un appuntamento quasi mensile in cui ci concentriamo su una legge, un decreto, delle linee guida, dei piani nazionali per approfondirli insieme perché poi sono pane per la nostra attività di tutela e oggi abbiamo pensato di dedicare questo momento a una legge che sta a cuore di tantissimi di noi, penso tutti, proprio perché ormai nella vita di tutti noi ci troviamo ad essere caregiver e non importa più neanche l'età che abbiamo, perché sappiamo come ci sono tantissimi anche caregiver, giovani caregiver, quindi il tema è un tema importante e abbiamo voluto fare un po' il punto sullo stato dell'arte di questa legge nazionale sui caregiver familiari con diverse amiche oggi. Come sapete pendono diversi disegni di legge, è stato istituito recentemente un tavolo tecnico proprio per la promozione di una legge statale sui caregiver familiari dalle ministre della disegnabilità e del lavoro, cittadinanza attiva ed altre organizzazioni fanno parte di questo di questo tavolo tecnico ed oggi quindi vogliamo vedere insieme appunto a loro a che punto siamo, come sta andando l'iter, quali sono un po' le criticità che dal nostro punto di vista ci sono e cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi rispetto appunto all'iter di questa legge. Lo facciamo appunto con Isabella Mori che per cittadinanza attiva è nel tavolo, in questo tavolo tecnico, con Stefania Bastianello che è direttore tecnico di Aisla, l'associazione italiana sclerosi laterale amiotrofiche, Patrizia Spadini che è presidente dell'associazione italiana malattia di Alzheimer, AIMA, perché insieme appunto come vedrete hanno sottoscritto un documento di posizionamento rispetto a questa legge e poi cogliamo anche l'occasione con insieme a Rossana Di Renzo che è responsabile del coordinamento regionale delle associazioni dei malattie cronici di cittadinanza attiva Emilia-Romagna di vedere un po' cosa succede in una regione appunto come quella dell'Emilia-Romagna che sta sperimentando da dieci anni una legge sui caregiver. Come sempre riserviamo alla fine di questi interventi una decina di minuti, dieci, quindici minuti per delle domande da parte vostra o considerazioni. Al momento non potete attivare voi i microfoni perché siamo davvero tanti per cui abbiamo scelto questa modalità ma appena alzerete la mano per intervenire io aprirò il microfono quindi potrete direttamente porre la domanda o se non volete porla direttamente scrivete pure in chat e la riporterò a qualcuno delle nostre amiche per rispondere. Quindi io non rubo altro tempo alla materia passo la parola a Isabella Mori. Grazie, buonasera a tutti, lasciatemi associare all'entusiasmo e ringraziamenti di Daniela, anch'io ho veramente piacere di passare oggi quest'ora con voi sia per aggiornarvi sullo stato dell'arte appunto del tavolo e delle leggi in generale, delle proposte di legge che ci sono sui caregiver ma anche poi per sentire nella parte finale le vostre osservazioni, le vostre domande anche perché noi e le colleghe in qualche modo che partecipiamo al tavolo se possibile possiamo anche farci promotrice di proposte, idee in aggiunta a quelle che sono già chiaramente i lavori del tavolo. Condivido le mie slide. Penso che si vedano. Ok, perfetto. E allora considerando quanto il tempo a disposizione è prezioso, vado subito al dunque. Allora, i caregiver familiari per stato oppure per mancanza di alternativa perché ricordiamoci che nel nostro paese spesso non c'è la libera possibilità per un familiare di scegliere se essere o non essere il caregiver del proprio familiare perché spesso il sistema del welfare è inadeguato e non abbiamo alternative. Comunque sia i caregiver familiari per scelta o perché non hanno alternative di fatto ad oggi colmano con il loro lavoro di cura delle lacune enormi nel nostro sistema di welfare che oramai è inadeguato soprattutto rispetto ad altri paesi europei. Vedete questa prima slide che penso che la gran parte di voi già conosce sono i numeri presentati da una ricerca dell'ISTAT del 2019 ma pubblicati da poco nel 2022 in cui ci dicono che i numeri relativi al lavoro di cura ai caregiver familiari nel nostro paese sono davvero elevatissimi. Sono in aumento perché sappiamo che la popolazione diventa sempre più grande, più anziana e quindi nei prossimi dieci anni ci si aspetta che questi numeri crescano in maniera esponenziale e c'è anche una questione di genere legata al lavoro di cura e al caregiver perché nella gran parte dei casi i caregiver sono donne e con tutto quello che comporta perché spesso sono ancora in età lavorativa e si stima che quasi il 30% delle persone che lavorano abbiano contemporaneamente un rilevante impegno quotidiano di cura e che in questo non siano adeguatamente supportate e ci sono dei rischi reali di perdite del lavoro, di fuoriuscite del mercato del lavoro. Questo soltanto per inquadrare un po' di cosa stiamo parlando, di quali numeri e di quale ricadute sociali, economiche, lavorative riguardano il tema appunto dei caregiver familiari. Ci tengo subito in premessa a dire che oggi noi parliamo esclusivamente dei caregiver familiari, di quelle persone che assumono un lavoro di cura nell'ambito di un rapporto familiare che come vedremo più avanti dal nostro punto di vista non è detto che sia solo un rapporto legato dal vincolo di sangue appunto familiare ma un rapporto che nasce al di fuori di un rapporto professionale. Non stiamo parlando di chi lo fa per lavoro che pur sono chiaramente un'importante fetta nel nostro paese però parliamo di caregiver familiari. Tutte le leggi di cui parleremo, che nomineremo oggi riguardano caregiver familiari. Quindi questa prima slide mi serviva appunto più che altro ad inquadrare un po' di cosa stiamo parlando e di quale impatto potrà avere nel nostro ordinamento finalmente una legge che in maniera sistematica tratti questo tema. Però voglio ricordarvi perché sono sicura che anche di questo ne avrete sicuramente sentito parlare che il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità ha colto il ricorso di una caregiver familiare italiana con la decisione del 3 ottobre del 2022 ed ha fatto degli importanti rilievi, delle importanti osservazioni al nostro paese perché ha riscontrato che l'incapacità dell'Italia di fornire servizi di sostegno individualizzati ad una famiglia di persone con disabilità è discriminatoria e viola i loro diritti alla vita familiare, a vivere in modo indipendente e ad avere un tenore di vita adeguato. Inoltre l'ONU nelle proprie conclusioni ritiene che lo Stato italiano sia dunque venuto meno agli obblighi che gli competono in forza degli articoli 19, degli articoli 28 della Convenzione ONU sui diritti dei disabili e dei umani. Quindi diciamo che da questo anche prende le mosse la nostra riflessione di oggi. L'Italia al momento è stata richiamata dall'ONU, non ha un sistema, non ha una legge organica che tuteli i caregiver e quindi ad oggi si vienono i diritti dei caregiver ma anche delle persone di cui i caregiver hanno cura. In Italia non è che non esistano delle leggi sui caregiver, in Italia esistono moltissime leggi che richiamano la figura del caregiver ma lo fanno in primis la legge 104, ma lo fanno in maniera disomogenea e frammentaria. Si tratta di leggi, di provvedimenti, di fondi che nel corso degli anni sono stati previsti e che in qualche modo hanno delle ricadute sui caregiver che incidentalmente introducono norme relative alla persona che si prende cura dei disabili ma non sono leggi specifiche che mettono al centro la figura del caregiver. Questa è una discriminante molto importante perché invece ad oggi noi stiamo lavorando per avere una legge che ponga al centro il caregiver. È chiaro che il caregiver è fortemente legato alla persona di cui ha cura, non esisterebbe il caregiver se non ci fosse una persona di cui ha cura. Tuttavia ci sono tante leggi che invece tutelano la disabilità, le persone con difficoltà, le non autosufficienze ma manca una legge organica appunto sui caregiver. Per la prima volta il profilo del caregiver è stato invece riconosciuto e dilineato normativamente ma come definizione non abbiamo una normativa organica ma per la prima volta è stato definito e delineato nella legge di bilancio del 2018 che all'articolo 1 dei commi 254 e 256 definisce il caregiver come la persona che assiste e prende cura di specifici soggetti. la legge è la legge 205 del 2017. Ora nella normativa c'è una definizione di caregiver che trovate poco più avanti e che definisce il caregiver familiare come la persona che assiste e che si prende cura del coniuge dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, scusate, ai sensi della legge 76 del 2016 e delinea che vincoli di familiarità debba avere il caregiver. Questo al momento è quello che c'è a livello statale di definizione del caregiver che però come vedremo più avanti con una nuova normativa potremmo anche pensare di ampliare, di modificare, di estendere. La figura del caregiver familiare viene anche delineata nel decreto legislativo del 15 marzo 2024 quindi recentissimo numero 29 che reca disposizione in materia di politica in favore delle persone anziani cosiddetto decreto anziani conosciuto anche come il decreto anziani che è stato emanato in attuazione della delega della legge numero 33 del 2023 e anche qui troviamo una definizione del ruolo e dell'attività del caregiver familiare però riferito alle persone anziani non autosufficienti quindi capite che c'è una grande disorganicità nel nostro ordinamento perché la figura del caregiver ovviamente indipendentemente dalla persona di cui si accura è quella e deve essere definita in modo appunto univoco. Oggi a livello regionale abbiamo diverse leggi che definiscono la figura del caregiver familiare l'ultima approvata soltanto in ordine temporale è quella della regione Lazio queste leggi risultano anche se ci sono e quindi va dato atto alle regioni che comunque nel corso degli anni almeno hanno fatto dei tentativi per regolare in maniera organica la figura del caregiver tuttavia anche a livello regionale risultano una grande disomogeneità delle leggi vi è la legge dell'Emilia Romagna di cui dopo ci sarà appunto un focus specifico come abbiamo sentito in premessa che è la più antica è del 2004 la quattro e ha riconosciuto prima fra tutte la figura del caregiver e l'ha riconosciuta introducendo anche come vedremo dopo delle norme che sono per l'epoca erano molto avanti e sono molto attuali eh di cui oggi molto si dibatte spesso viene presa proprio come esegno come esempio come best practice anche per eh una no una legge diciamo di carattere eh statale ad oggi eh anche perché eh dopo che poi c'è stato il richiamo dell'ONU in qualche modo sono piovute tante eh proposte legislative da qualsiasi schieramento politico che abbiano che prendano appunto ad a tema eh il la regolamentazione organica della figura del caregiver presso la Camera dei Deputati e infatti ad oggi risultano incardinate diverse proposte di legge di iniziativa parlamentari che sono proprio finalizzate alla definizione della figura eh del eh caregiver e tutte diciamo queste leggi in premessa riconosce queste proposte di legge scusate non sono leggi sono disegni proposte in premessa ehm riconoscono tutti l'alto valore sociale economico dell'attività prestata eh dal caregiver che si figura come vantaggiosa per l'intera collettività e meno male dico io era ora che finalmente si eh si ehm si riconoscesse questo ruolo sociale le le proposte intervengono però eh sulla eh disciplina vigente in modo parzialmente difforme e introducono anche delle deleghe al governo quindi attualmente c'è eh veramente tanta 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 confusione debbo dire soltanto per darvi un'idea eh questa schema questa tabella eh io l'ho tratta ovviamente da fonti ufficiali dal sito del senato e ho contato ben quindici leggi mi ci sono volute due slide per rappresentare la tabella che abbiano in qualche modo ad oggetto la regolamentazione della figura del caregiver. Questo diciamo quindi è il contesto attuale eh nel quale ci muoviamo e nel quale eh si inserisce il lavoro eh del tavolo tecnico per la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver. La presidenza del consiglio dei ministri eh di comune accordo insieme alle ministre per la disabilità e per il lavoro e le politiche sociali hanno istituito a novembre scorso con un decreto eh un tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari. Il tavolo tecnico quindi deve sciogliere i nodi critici, deve raccogliere gli elementi utili e deve poi presentare alle ministre una propria proposta. Ovviamente l'obiettivo è quello sempre di una legge organica sul caregiver familiare. Il tavolo tecnico si è riunito per la prima volta il diciassette gennaio duemilaventiquattro e da un mandato di sei mesi. Il nostro lavoro deve essere terminato e concluso entro metà fine luglio duemilaventiquattro ma più probabile entro la la metà del mese insomma. Ehm il tavolo tecnico così come viene definito nello stesso decreto che lo istituisce ha quali compiti principali cioè proprio come compiti l'individuazione delle aree di intervento e delle maggiore esigenze cui dare risposta nonché la formulazione di proposte ai fini di elaborazione di un insegno di legge volto a riconoscimento del ruolo svolto dai caregiver familiari. L'individuazione e la quantificazione della platea anche diversità diversificata al discorso che facevamo prima ci sono tanti caregiver i soggetti di cui i caregiver e le hanno cura sono diversi le situazioni che si trovano affrontare caregiver sono diversi e quindi deve individuare i beneficiari di una legge statale sui caregiver familiari e quindi individuare anche la platea non è eh diciamo scontato ma è un compito che è stato diciamo assegnato al tavolo. Infine il tavolo anche come compito è l'individuazione del ruolo del caregiver all'interno di un sistema integrato di presa in carica della persona con disabilità nelle diverse fasi della vita e del caregiver stesso quindi una partecipazione attiva del caregiver un ruolo attivo e una definizione anche eh proprio di quelli che sono eh le sue attività e ovviamente i suoi diritti e tutte le forme di possibile sostegno che possono essere riconosciute a ai al caregiver familiare. Il tavolo è coordinato dall'ufficio legislativo del ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal capo dell'ufficio legislativo del ministro della disabilità oppure dal loro delegato. È composto, è un tavolo molto 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 partecipato e molto ampio. Io dico è sicuramente una notizia buona. È stato bello che eh le ministri abbiano individuato una platea molto ampia di stakeholder. Chiaramente il lavoro è molto difficile proprio perché ci sono tanti soggetti che partecipano ma ritengo che assolutamente questo debba essere considerato una una ricchezza. Ehm ci sono i rappresentanti i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni quindi abbiamo rappresentato ehm l'Inps abbiamo rappresentato vari ministeri, il ministero della salute eh e altri ministeri, le rappresentanti della regione quindi per ogni ragione per ogni regione c'è una rappresentante, i rappresentanti dei principali sindacati Cigelle e Cisle Will, degli esperti nominati dal ministro della disabilità e le associazioni e confederazioni di pazienti. Qui ho riportato un elenco di soltanto di quelle che sono le associazioni e le federazioni presenti al tavolo perché molte di queste oggi sono anche credo presenti e stanno ascoltando il nostro webinar e quindi vi dà l'idea di che di quei numeri stiamo parlando cioè ci sono davvero ehm le associazioni più rappresentative eh dei pazienti anche delle confederazioni con dei numeri molto molto significativi e quindi con un bacino di utenza eh molto molto ampio di di caregiver. Ehm il tavolo diciamo come modalità eh organizzative ha svolto le sue prime riunioni in plenaria con l'obiettivo di eh riprendere e definire le modalità eh del lavoro del tavolo e del mandato che sono contenute nel decreto ma ovviamente è stato necessario focalizzare bene quali fossero eh l'obiettivo quale fosse l'obiettivo di questo tavolo quale fossero le modalità di lavoro. È stata fatta tutta una prima parte di approfondimento della normativa vigente che esiste in Italia e di cui bisogna tener comunque conto quando viene poi fatta la la proposta di legge organica perché altrimenti rischiamo di creare un'ulteriore frammentazione invece la legge definitiva dovrà contenere eh eh rimandi dovrà contenere di inglobare tutte quelle norme che già esistono che già riconoscono dei diritti dei dei caregiver non andare in contrasto ma semmai andare a migliorare e ehm abbiamo preso anche in considerazione ovviamente i disegni di legge in tema dei caregiver quelli che vi ho elencato prima perché chiaramente c'è già un iter avviato e quindi vanno andavano senza ombra di dubbio presi in eh considerazione e poi ancora nelle sedute plenarie il tavolo ha definito i temi oggetto della proposta che appunto il tavolo tecnico definirà le altre riunioni ehm si sono svolte si stanno a tuttora svolgendo in sottogruppi i sottogruppi tematici lavorano ad un approfondimento dei seguenti temi che sono proprio quelli che saranno il cuore e eh come dire la legge sarà strutturata in questo modo cioè la finalità e la definizione della figura del caregiver la procedura di riconoscimento per la per la della figura del caregiver e poi tutto il sistema di tutele e di sostegno del caregiver stesso quindi ehm adesso eh il alcuni i due primi sottogruppi hanno terminato il loro lavoro il terzo sta terminando eh i lavori diciamo dei sottogruppi sono poi eh riportati in plenaria e il coordinamento legislativo presenta poi la sintesi e anche le posizioni di maggioranza che ci sono state nel tavolo perché poi il lavoro dei sottogruppi andrà a eh ad essere presentato alle ministre che poi inizieranno a quel punto l'iter politico e eh mi sto sto avviandomi alle conclusioni ehm ovviamente l'occasione di arrivare ad una legge statale che definisca in modo organico il diritto del caregiver familiare è veramente unica ed è importantissimo eh che eh siano tante le associazioni che sono state coinvolte in questo percorso dicevo prima sicuramente non è non è facile perché le esigenze sono diverse eh esistono ehm anche diversi livelli di cura e di assistenza ma questo diciamo non deve bloccare il lavoro devo essere solo uno sprone è difficile bilanciare chiaramente diversi interessi però è fondamentale arrivare ad una legge che dal nostro punto di vista deve essere e dovrà essere quanto più ampia ed includente possibile è chiaro che laddove ci fossero poi delle legislazioni di livello regionale che sono più avanzate quella che sarà la legge nazionale la legge statale dobbiamo preservare la possibilità per le regioni di andare a migliorare introdurre tutele ulteriori però introdurre una legge uguale per tutti che sia ampia ed includente sicuramente va a vantaggio di tutti quei caregiver che magari vivono in quelle regioni che ad oggi non hanno una legge su caregiver o che comunque se ce l'hanno è davvero restrittivo. Cittadinanza attiva insieme a Daima e Aisla hanno voluto esprimere in un documento di posizionamento le proprie proposte eh in merito ai notti critici che il tavolo sul caregiver familiare sta affrontando e guardate è è davvero un lavoro molto impegnativo emozionante e stimolante noi a un certo punto insieme alle colleghe amiche di Aima e Aisla eh abbiamo sentito veramente l'esigenza di convergere perché questa convergenza eh di quante più posizioni possibili intorno ad alcuni temi aiuta crediamo eh sicuramente lavori del tavolo una più facile definizione e a prescindere ci teniamo affinché la nostra posizione eh sia chiara su i temi cruciali e sui nodi fondamentali. Devo anche ringraziare la Confederazione Parkinson Italia, Ollus e l'Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani perché proprio in questi giorni eh la scorsa settimana eh stanno anche loro al tavolo e hanno aderito eh al nostro posizionamento quindi più ampliamo le nostre posizioni più siamo e e meglio è. Ehm i nodi critici non ve li nascondo eh ci sono ma perché proprio non essendoci stata ad oggi una legge organica vanno affrontate vanno sciolte alcune tematiche e vedete questo slide un po' più grande delle altre l'ho fatto apposta proprio perché volevo sottolineare l'importanza di questi temi. La definizione del caregiver eh familiare per essere un caregiver familiare serve ancora al vincolo di sangue nel duemilaventiquattro? Noi ci siamo fatte qualche domanda su questo insomma ci so chi sono i caregiver familiari? Si sceglie in base al grado di cura, alla gravità delle malattie, alla non sofficienza o sono ancora altri criteri che vanno introdotti? Un tema fondamentale, cruciale, un nodo da sciogliere. Il vincolo della convivenza. Sono caregiver familiari solo colore che convivono sotto lo stesso tetto con la persona di cui si accura? Oppure c'è un grandissimo esercito di figli, fratelle e sorelle eh che magari non vivono sotto lo stesso tetto dei propri genitori o di un fratello o di una sorella ma sono a tutti gli effetti i loro caregiver. E poi c'è il tema dell'espressione del consenso da parte dell'assistito. È fondamentale che l'assistito possa scegliere il proprio caregiver. Ma chi non può determinarsi? Come fa ad esprimersi? Che modo vogliamo trovare? Qual è la modalità più consona per non appesantire burocraticamente il tutto? E ancora il riconoscimento del ruolo attivo del caregiver nel progetto di vita. Non possiamo non tenerne conto. Anche su questo le normative europee ci vengono incontro e fondamentali. è fondamentale che ci sia un progetto di vita. È fondamentale che si vada ove possibile verso l'autonomia e l'indipendenza oppure la si preservi per quello che si può ma il caregiver deve essere una parte attiva. Io eh spero di aver ben introdotto i questi temi che poi però vengono ehm vengono adesso fondate. Dobbiamo andare un po' più veloce perché abbiamo preso un po' più di tempo. se magari lasci quella slide eh sul forse sui punti critici chiedo a Stefania ehm perché appunto eh con l'aiuto di Stefania e Patrizia approfondiremo esattamente un po' di più questi nodi critici che eh Isabella ha elencato. Ehm posso? Vado? Sì. Ok buonasera a tutte e tutti. Io proverò a fare una sintesi in pochissimi minuti di quelli che sono una parte dei punti eh salienti che abbiamo delineato nel documento. Eh come diceva Isabella il primo aspetto è la massima inclusione eh e previsione di una logica a tutte le crescenti per i caregiver. Eh riteniamo che non sia eh obbligatorio il vincolo della convivenza perché eh guardate coloro che hanno sottoscritto il documento eh una grande platea quindi rappresentativa eh molto spesso il caregiver non convive pensiamo alle demenze appunto pensiamo al Parkinson pensiamo alla SLA pensiamo a tante altre situazioni in cui c'è un caregiver diciamo mh eh eh fattivo che non è un figlio eccetera una sorella che non convivono necessariamente con la persona. Tra l'altro Eurocarers che è proprio la rete europea delle associazioni che si occupano dei caregiver eh ritiene che il caregiver possa essere certamente un familiare ma anche un amico o un vicino di casa quindi come vedete una logica molto estensiva. Assolutamente riteniamo che il caregiver debba essere inserito come componente fondamentale della rete dei servizi e che partecipi attivamente al progetto di vita. Progetto di vita come sapete mh proprio pochi giorni fa è uscita in gazzetta ufficiale eh il decreto legislativo sessantadue eh figlio della eh della legge delega sulla disabilità eh una legge straordinariamente innovativa e e noi riteniamo che tutte eh tutto ciò che attiene al caregiver debba essere comunque conforme alla eh legge sessantadue. Eh altro aspetto mh è che il caregiver debba essere titolare di autonomie e di diritti legati naturalmente al ruolo che riveste che venga riconosciuto al caregiver il suo ruolo o il suo valore e ruolo sociale economico eh spesso o vicariante i sistemi di welfare presenti in Italia. Eh altro aspetto importante su cui si si discute molto in seno al tavolo è il tema della volontarietà e gratuità. Ebbene noi riteniamo che i termini gratuità e volontarietà debbano essere sostituiti con responsabilità. Il caregiver si assume una grossissima responsabilità nel momento in cui accoglie eh la proposta di eh assumere questo ruolo. Eh riteniamo anche che lo stato di non autosufficienza debba essere eh riconosciuto attraverso l'utilizzo degli strumenti ICF per l'International Classification of Functionality della dell'OMS e eh peraltro eh assolutamente in eh coerenza con la legge sessantadue. eh pensiamo anche che eh possano esserci più di un caregiver eh per una persona purché venga identificato il caregiver principale. Mi avvio alla conclusione. Gli ultimi tre punti eh sono mh l'idoneità. Ecco su questo eh secondo il nostro punto di vista eh un caregiver deve deve essere riconosciuto idoneo alla funzione. Pensiamo per esempio alle persone mh ai disabili mh adulti o anziani che a loro volta magari hanno un caregiver anziano o malato mh che chiaramente non può essere idoneo a a svolgere quel ruolo. Quindi introduciamo anche il concetto dell'idoneità e mh poi da ultimo eh pensiamo che tutto l'iter di riconoscimento debba essere in capo a un organismo eh eh statale. In questo caso abbiamo pensato all'Inps con tempistiche certe. Cioè l'Inps che peraltro dal primo gennaio duemila e ventisei sarà chiamato a svolgere la valutazione di base per la condizione di disabilità riteniamo che che contestualmente possa essere l'organismo che riconosce e eh esegue l'iter attuativo per il riconoscimento del territorio. Io ho terminato qui e penso che uno dei punti cioè il consenso che è un altro aspetto importante verrà trattato da Patrizia. Grazie Stefania. Sì Patrizia integra questi punti su appunto un aspetto veramente importante che è proprio quello della no della nomina del proprio caregiver eh quindi della della capacità anche di autodeterminarsi. Devi aprire il microfono non ti vedo ancora. Ragionissima. Ecco. La eh ringrazio ovviamente Stefania e Isabella prima di Stefania eh perché hanno con molta chiarezza messo eh messo fatto il quadro di quello che è stato il nostro lavoro di questi mesi al tavolo. Noi siamo stati invitati a riflettere e poi discutere appunto sulla definizione di caregiver, sulle tutele possibili ed erogabili per i caregiver e poi anche sul riconoscimento come ha eh concluso Stefania. Che cosa si intende per riconoscimento? Si intendono quelle procedure da mettere in atto perché proprio quella persona venga riconosciuta e nominata come caregiver proprio di quel disabile o paziente e possa vedere riconosciuto il suo ruolo dalle istituzioni e possa beneficiare delle tutele prestabilite. Si è convenuto che la procedura di riconoscimento sia unificata sul territorio nazionale e affidata ad un unico soggetto istituzionale che abbiamo in molti individuato e è convenuto eh che possa essere l'Inps come diceva Stefania. Un problema è sorto quando si è sostenuta la necessità che la nomina consenso gradimento del caregiver fosse in capo al disabile per mantenere la centralità della sua persona e la sua obiettiva capacità di autodeterminazione. Nella demenza ci sono degli aspetti delicati e critici che riguardano la variazione, oso dire la graduazione della competenza cognitiva del paziente durante gli anni di malattia. La demenza dura molti anni e nel corso della malattia si instaura gradualmente un'incapacità decisionale che progressivamente diventa totale e riguarda anche le decisioni più elementari. Bisogna dunque capire quando il malato deve esprimere le proprie volontà che possono essere a volte cariche di valenze etiche ma sempre con una forte ripercussione sulla qualità della sua vita. nell'incertezza del dibattito, nell'incapacità di trovare una soluzione al quesito, nel dubbio che rimane sul quando e chi deve prendere le decisioni al posto di, chi ha avuto bisogno di tutelarsi e penso alle RSA, agli ospedali, ai comuni, alle poste, alle banche, si è rivolto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, saturando come sappiamo tutti gli uffici di tutela dei tribunali e naturalmente quasi snaturando anche in parte il senso dell'istituto stesso che tutela sempre meno, a mio parere, il paziente e sempre più le istituzioni che lo invocano. Quando al tavolo dei caregiver è stato proposto di affidarci all'amministrazione di sostegno per la nomina dei caregiver, quando il disabile, come nel caso delle persone con demenza o di altra patologia neurodegenerativa, non fosse stato in grado di farlo autonomamente, ci siamo subito preoccupati, conoscendo i tempi eterni dei tribunali per la nomina dell'amministratore di sostegno e il loro intasamento attuale. Abbiamo immaginato o previsto la necessità di velocizzazione delle procedure per le famiglie già cariche di difficoltà e attese e abbiamo cercato un'alternativa affidabile per il paziente, affidabile per il caregiver e affidabile per le istituzioni. La soluzione che abbiamo individuato e condiviso è quella della sottoscrizione da parte dell'assistito con malattia neurodegenerativa cerebrale, esprovvisto di amministratore di sostegno o tutore, di una delega a consenso di nomina del proprio caregiver nella fase iniziale del percorso di diagnosi. Tale modulo dovrebbe essere proposto e raccolto dal neurologo proprio al momento della diagnosi. La società italiana di neurologia SIN che abbiamo consultato si è resa disponibile a sottoscrivere un'alleanza con le associazioni firmatarie del documento di posizionamento per questa procedura che garantirebbe l'acquisizione del consenso alla nomina quando la persona è ancora in grado di esprimerlo. Ovviamente il nostro tentativo è quello di rendere le procedure più veloci e snelle possibile per non aggravare peso e fatica dell'assistenza. Permettetemi ora in conclusione una considerazione personale. Tutto ciò, definizione, riconoscimento, procedure, tutele è necessario in vista di risorse pubbliche che siano poche o tante non è rilevante che verranno impiegate ed erogate per i caregiver al di là di quanto dice il comitato dell'ONU. Da parte delle istituzioni, tutte le istituzioni, non c'è mai stato alcun interesse nei confronti dei caregiver, abbiamo soltanto l'esempio positivo e assolutamente incommiabile della regione Emilia-Romagna, per interesse nei confronti dei caregiver che hanno impiegato risorse ed energie senza risparmio per la cura e l'assistenza dei loro cari, di volta in volta responsabilizzati, colpevolizzati o abbandonati. Oggi siamo a questo punto perché i caregiver, noi caregiver e noi in rappresentanza dei caregiver, di tutti i caregiver, abbiamo alzato la voce e abbiamo preteso di sopravvivere anche noi. Non chiediamo risarcimenti per i decenni di pesantissimo lavoro svolto, ma chiediamo che questo nuovo corso sia veloce, tempestivo e semplice, almeno quanto è stato per noi farci carico del nostro malato o disabile negli anni passati. Grazie Patrizia. Penso che le tue conclusioni siano davvero importanti, cioè che effettivamente si richieda non soltanto il riconoscimento, ma che questo sia veloce, tempestivo e semplice, come dici tu e credo che sia la cosa fondamentale che possa almeno rispondere in parte a veramente a ruolo importante. Immaginiamo soltanto quello che è successo durante la pandemia, no? Cioè se vogliamo essere soltanto ricordare un esempio. Prima di passare a Rossana per appunto dirci qualcosa su quello che succede in Emilia Romagna da dieci anni, cioè dal 2014, io leggo, ci sono stati dei commenti a quali alcuni purtroppo non credo che si possa rispondere. Rossella ci chiede come mai sono stati tagliati i fondi per i caregiver nella regione Lombardia, nonostante le leggi degli ultimi anni. Bisognerebbe chiederlo e battersi lì in quella regione. Possiamo verificare anche insieme ovviamente. Facciamo un webinar apposito, io ho seguito tutta la vicenda ma ci vorrebbero due ore. Ok, beh, su questo tema secondo me ci possiamo fare diverse cose, visto che siamo impegnati in tante associazioni su questa, quindi è ovvio l'incontro di oggi è soltanto per aggiornarci tutti su quello che sta accadendo, però effettivamente sul tema dei caregiver se volete possiamo organizzare delle cose proprio ad hoc, insomma, perché penso che sia davvero un tema che tutti quanti sentiamo. Elisa invece dice, soprattutto per il prepensionamento dei caregiver per assistere la persona con disabilità, penso insomma sul rispetto all'impatto sociale ed economico che dicevamo prima, è sicuramente il tema del prevenzionamento, come di tutti gli impatti che sulla vita soprattutto delle donne ha, questo lavoro di cura credo che sia in questo senso. È stato sciolto il tema dell'obbligatorietà della residenza, come avete visto è un punto su cui il nostro posizionamento sicuramente ha detto e chiede di superarlo appunto, ma fino a quando non si vedrà il testo della legge non sapremo se ci si sta battendo per questo e l'importanza anche di questo incontro di oggi è di cercare di fare quanto più massa critica, come dicevano anche Isabella, Stefani, insomma Patrizio, cioè cerchiamo veramente di unire quante più associazioni possibili per convergere sulle posizioni, perché appunto anche tra associazioni purtroppo non è scontato la convergenza tra i vari punti. Maria Grazia dice sì, in Canada e in Francia non esiste da anni il vincolo familiare e ok, immagino che le ultime parole di Patrizia ci abbiano mosso il cuore, oltre che l'apprendimento in questo momento. Allora io lascerei, continuate a scrivere commenti se volete, lascerei la parola a Rossana per raccontarci un po' alcune considerazioni dal suo punto di vista della presenza di una legge in Emilia Romagna e poi appunto lasciamo uno spazio magari a domande o considerazioni. Continuate a scrivere così ci rimangono anche... Grazie Davila. Volevo anche ringraziare Stefania, Patrizia e Isabella perché c'è tanto bisogno di informazione, quindi sollecitiamo anche altri incontri di approfondimento. A me il compito di parlare della legge regionale sui caregiver. In questo periodo, maggio, per noi dell'Emilia Romagna è un mese molto importante perché è dedicato proprio ai caregiver ed è un'iniziativa che sorge nel 2011. Quindi questo fa capire che per arrivare anche alla legge è stato necessario partire dal basso, quindi da persone che sentivano il problema naturalmente affiancate da associazioni e anche dalla sensibilità politica. E quindi quest'anno festeggiamo anche i dieci anni. La domanda che mi è stata posta è capire che cosa accade quando viene approvata una legge. E noi abbiamo un arco di tempo abbastanza ampio, cioè dieci anni. Che cosa è successo in questi dieci anni? Allora, sicuramente abbiamo avuto tempo dedicato anche alla costituzione di un gruppo regionale per poter lavorare e poi avere le adozioni delle linee attuative della legge. Questo è stato il primo passaggio perché ci ha reso poi operativi. Si è costituita una rete di professionisti del sociale e del sanitario a livello regionale e hanno lavorato per produrre alcuni strumenti. Ma che cosa ha dato lo sviluppo e gambe a questa legge? Sicuramente il finanziamento straordinario a cavallo del 2019 e del 2020. Infatti da lì in poi la legge ha avuto un impulso operativo veramente efficace. Il gruppo che è stato istituito ha lavorato sull'adozione di schede e di strumenti. Perché sono importanti? Partire dagli strumenti e dalle schede. Perché questo ha permesso di lavorare all'interno dei servizi con gli stessi, adottare gli stessi strumenti. E faccio un esempio. La scheda di riconoscimento e del sostegno del caregiver. Poi vedremo perché è stato importante. Poi c'è stata anche della formazione dei professionisti. Per conoscere meglio la legge, per conoscere che cosa, quali bisogni portavano i caregiver. E da lì si è pensato invece all'esterno. E quindi abbiamo, si è lavorato perché anche le associazioni hanno partecipato, l'attivazione di un portale. Quindi sull'informazione. Faccio due esempi. Se una persona abita Ferrara e si trova nella necessità di reperire informazioni, basta andare sul portale, cliccare sulla tendina, vengono fuori tutti i servizi dedicati ai caregiver nella zona di Ferrara. Oltre a questo, se vuole affidarsi, quindi conoscere le attività anche delle associazioni, può fare la stessa operazione. E quindi vedere quali sono le associazioni presenti su quel territorio e conoscere anche le attività specifiche rivolte sia ai caregiver, ma anche alle persone malate. E questo, avere informazioni, è quello che ci viene richiesto tutti i giorni. Però la cosa più importante che ha permesso il finanziamento è l'individuazione nei distretti e gli sportelli locali per i caregiver. Che cosa vogliono dire? Qual è l'obiettivo di questi sportelli territoriali, quindi diffusi su tutta la regione Emilia-Romagna? è quello di accogliere, di informare e accompagnare le persone verso i servizi, sia sociali, sanitari ed educativi. Da poche settimane abbiamo non soltanto sul territorio, quindi affiancati ai servizi, ma all'interno dell'ospedale. Abbiamo una sperimentazione proprio a Bologna, in un ospedale, e quindi la persona e il suo caregiver nel momento della dimissione può anche lì ricevere tutte le informazioni ed essere orientato e accompagnato. Abbiamo detto che c'è stata la costituzione della rete, ma solo nel 2022 siamo entrato anche il terzo settore e si sono sviluppate le reti e quindi anche noi come cittadinanza attiva siamo all'interno di questo tavolo. Il fatto di avere delle schede e quindi tutte uguali all'interno del servizio ha permesso alla regione di attivare anche un monitoraggio, quindi di capire come questo fondo è stato speso. E vi porto alcuni esempi, però che cosa faremo quest'anno? Quindi siamo quasi alla fine della sperimentazione. Lavoreremo sulle competenze dei caregiver che hanno in qualche modo acquisito durante il percorso di sostegno e di cura al proprio caro. Ed infine una valutazione complessiva di questo percorso che è durato dieci anni. Vi porto un po' di esempi di come sono state utilizzate le risorse. Ad esempio, che cosa hanno chiesto i caregiver? Dove sono stati, cosa abbiamo finanziato? Il 34% per esempio ha richiesto accoglienza temporanea di sollievo in residenza. Quante persone sono state accolte? 1.403. Altri interventi sono quelli di sollievo al domicilio, il 28%. L'assegno di cura, il 17%. Altre situazioni di emergenza che possono essere sia del proprio caro ma anche del caregiver che a volte ha dei problemi di salute. E anche questo è stato richiesto un 13%. Poi ci sono tutti gli interventi che sono di sostegno come i gruppi di automutuaiuto, come gli interventi psicologici e sicuramente anche l'accoglienza temporanea di sollievo in semiresidenza. Questi sono alcuni dati che risalgono al 31 di dicembre del 2023. Questo è un pochettino lo sviluppo del nostro percorso per la realizzazione di servizi rivolti al sostegno del caregiver. Sono sufficienti? Sono insufficienti? Ecco, questo andremo a valutarlo insieme anche a tutti gli attori che in questo percorso sono stati coinvolti. Come cittadinanza attiva faccio un po' di promozione. Negli ultimi anni abbiamo attivato una campagna e quest'anno è dedicata, l'abbiamo chiamata Scatti di Cura. Invitiamo tutti a seguirci. E perché seguirci? Perché tutte le foto che ci sono arrivate ci hanno permesso di fare un racconto corale, emozionante, spaesante, faticoso, gioioso, vitale e anche fatto di corpi e di gesti che sono atti di cura e di benessere. Per cui chi vuole può ancora partecipare e contribuire. Grazie. Grazie Rossana, fa sempre bene questo tipo di pubblicità, secondo me è sana. Quindi andate sia sul profilo Instagram che anche Facebook, si trova Scatti di Cura, sono veramente delle foto molto belle, insomma, in cui ci si rispecchia a volte e a volte invece si guarda, si ascolta, anche se sono immagini, si ascolta tutto quello che raccontano. Insomma, è una campagna molto molto bella. Penso che quello che ci ha raccontato Rossana sia utile per farci capire che poi dopo una legge, se arriveremo alla legge nazionale con i tratti, diciamo, che ci piace, che possa avere, poi va tradotta sui territori ed effettivamente penso che il punto di forza dell'esperienza dell'Emilia-Romagna che come vedete già è lunga e sta valutando ora, quindi insomma poi ci vuole un tempo di implementazione importante. Alcuni elementi però sono fondamentali, appunto una capacità di dotarsi di strumenti che siano condivisi da tutti poi, quindi che non ci siano disparità anche nella stessa regione sull'uso di strumenti, l'attenzione proprio ai bisogni, anche quindi ascoltare e utilizzare le risorse in base ai bisogni che vengono e poi il tema della valutazione. Qualcuno ha chiesto il sito a cui, l'indirizzo del sito a cui, in modo da vedere, come funziona quello che hai raccontato e lo manderemo insieme a tutto il materiale in una mail però poi ve lo indico. Ci sono un po' di domande. Lauro dice, ho molti molti dubbi sull'Inps per il riconoscimento dei caregiver. Questo lo lascio alle colleghe perché è così. Sì, ne ho vista anche un'altra di domanda, che viene dall'Aima di Napoli. In realtà l'Inps dovrebbe semplicemente prendere in carico il consenso dato dal disabile oppure se verrà accettata nella modalità che abbiamo proposto noi, non fa una valutazione e quindi non ci sarà una commissione di valutazione. Inps prenderà in carico questo atto di nomina del caregiver. Punto. Quindi probabilmente i dubbi erano proprio sui tempi di valutazione che conosciamo, ovviamente. Infatti, tra l'altro noi abbiamo, vero Stefania, ha chiesto anche che i tempi siano contingentati. Assolutamente. Questo poi si vedrà quanto. Si era partiti dai 15 giorni, poi si è arrivati ai tre mesi, però insomma che la nomina attraverso l'Inps abbia un tempo determinato. Però raccoglierei quei tipi. Scusa, aggiungo solo un rapidissimo flash e anche un invito. Sarebbe bene fare magari un momento di confronto sul DL62 perché proprio qui le due tematiche del riconoscimento della disabilità e contestualmente del riconoscimento del caregiver si uniscono e quindi questo dovrebbe essere un fattore agevolante e non, diciamo, di ritardo rispetto alle procedure. Se volete, appunto, proviamo ad organizzare magari un secondo momento su questo tema. Ci ragioniamo, eh? Direi di accogliere le osservazioni e commenti nell'ottica che dicevate prima, cioè di fornirvi spunti eventualmente, cioè sicuramente il tema dell'Inps va ben chiarito. Questo ce lo stiamo dicendo. Antonio Pinna dice, ok, al modello dell'Emilia Romagna ho dedicato un capitolo del mio libro. Tiziana dice, non solo in Lombardia ci sono problemi circa il riconoscimento dei lavori di cura dei caregiver. In alcune aree della Liguria la situazione è analoga per mancanza di fondi. Allora, penso che a questo fai riferimento, ovvero, Aima Napoli che chiedeva sempre, ecco, sulla parte dell'Inps. L'indirizzo dell'Emilia Romagna ve lo invieremo. Complimenti alla Regione Emilia Romagna per ciò che svolge nel sociale e nella partecipazione in generale, un esempio per tutti i pianigiani di Cittadinanza Attiva Siena. Ok, ah, Tiziana ce l'ha inserito. Cittadinanza Attiva Emilia Romagna, credo che questo sia il link, forse, per vedere scatti di cura. E poi Rossella dice, la legge dell'Emilia Romagna e del 2014, ma se non ho capito male, è entrata nella realtà solo dopo il 2019 e la valutazione non è ancora completa. Mi sembra di aver capito anche io così, cioè nel senso che nel momento in cui sono stati, ecco, sono arrivati dei fondi importanti nel 2019-2020 e poi effettivamente adesso a dieci anni si è avviato un processo di valutazione. Ecco, questo qui che ha inserito Tiziana e il link per vedere scatti di cura lo trovate in chat. Ci sono due mani alzate. Posso dire una cosa? Un po'. Sì? Adesso vedo. Soltanto fare un invito, se anche dopo il webinar, soprattutto le associazioni vogliono mandarci delle osservazioni, delle richieste, noi siamo assolutamente a disposizione anche sia ad accogliere appunto eventuali spunti, ma sia anche a rispondere diciamo ad eventuali dubbi. Soltanto questo volevo ribadire, ci tenevo. Isa, possiamo credo anche condividere con le persone che hanno partecipato oggi forse il documento di posizionamento in modo che possano arrivare anche in maniera puntuale. e diamo anche poi magari inviandolo la mail a cui inviare osservazioni o altro. Ci sono due mani alzate. Rossana Bortolotto, io provo a... Ti consento di parlare, vedi se era una mano alzata per... Devi attivare l'audio. Però non me lo consente. Rossana Bortolotto, scrivi soltanto nella chat se era una richiesta di intervento o una mano alzata da prima per sbaglio. Provo con Daniela Tramponi. Io non ho detto niente. Ah, ok. No, no, no. Eh, stavo spostando... Ok. Ok, grazie, allora. Sì. Eh, resta Rossana che non so appunto... Probabilmente... Non lo so. Scrive che ha alzato la mano per sbaglio. Ah, ok, ok, adesso adesso ho letto. Grazie, Ersan. Allora, se c'è qualcuno invece che vuole intervenire e... O per considerazioni o domande... Carla. Dovresti aprire il microfono. Mi sentite? Sì. No, io volevo fare una domanda. Mi ponevo... Diciamo... Se nel caso, diciamo, una persona quando ancora è in una fase cosciente decide di nominare un caregiver e successivamente in una fase poi di aggravamento magari questo viene cambiato perché appunto magari serve una persona che sia in grado di fare altre e altre attività se questa cosa come viene in qualche modo si potrebbe ovviare al fatto di... che non ci sarebbe più una persona indicata dal paziente. E poi l'altra cosa è anche quello, diciamo, sulla formazione. penso che sia un aspetto molto importante anche da parte delle... dei servizi anche appunto dell'ASLO, di altri servizi che ci siano proprio dei posti per la formazione che siano accessibili un po' ovunque. Quindi questo penso che sia una tematica molto importante poi da magari andare insomma ad approfondire meglio. Grazie Carla. Non so se chi vuole rispondere rispetto a questo aspetto. Patrizia, non so se... Non è chiarissima la domanda. Allora mi sembra di aver capito... Ok. Provo a ipotizzare, no? Che ci sia appunto un cambio di caregiver per un qualche motivo. e io credo che se non c'è più il consenso del paziente o il paziente non è in grado di esprimerlo, a questo punto sia inevitabile fare il passaggio ufficiale attraverso o l'amministratore di sostegno o il tutore e all'Inps verrà informata del cambio dei caregiver. Però non vedo non vedo altra via nel senso che una via ufficiale di nomina a questo punto essendo sempre appunto parlando sempre di risorse pubbliche sia assolutamente necessario. Aggiungo soltanto a questo che ha detto Patrizia che assolutamente condivido perfetto che noi stiamo anche pensando ipotizzando e richiedendo che ci sia un caregiver secondario. Quindi diciamo questa che ha detto Carla dovrebbe essere l'ipotesi in cui qualora fosse approvata passasse questa proposta in cui entrambi i caregiver non sono più disponibili per essere i caregiver della persona e quindi ovviamente ci sarà una via ufficiale. Per quanto riguarda la formazione ai servizi delle ASL assolutamente sì, il tema del riconoscimento dei diritti dei caregiver va anche in quel senso, in una formazione, in un sostegno anche di tipo psicologico dei caregiver. Io starei, come dire, starei attenta a mettere in mano agli operatori dell'ASL degli strumenti per valutare o intervenire nel lavoro del caregiver. No, lei diceva di sostegno probabilmente. Di supportare, di supportare, non assolutamente di valutare. E ma è quando si parla di formazione, come dire? No, di formazione nel senso che molto spesso magari un caregiver familiare non è che ha subito tutte le competenze. Quindi se anche uno deve gestire un macchinario o un qualche cosa può avere la necessità di essere inizialmente supportato da qualcuno che gli spiega quali sono le tecniche, quali sono le cose. No, no, ma questo, scusa se interrompo, è previsto. Nel ruolo dei gruppi di lavoro si parla proprio di formazione e chiaramente ricordiamoci che è una legge. Poi tutto dovrà essere declinato con atti poi successivi e specifici. Comunque la formazione è assolutamente ricompresa. Ok. Grazie. Allora, io vedo una manuale, allora vedo un commento. Allora, Maria Grazia dice sono collegata ma non funziona l'audio e non funziona a tutti. Se devi intervenire alza la mano e ti apro il microfono perché appunto eravamo, siamo 90 quindi è impossibile. E appunto Iman Impoli dice il tema della formazione lo si tratterà successivamente, credo che debba essere sotto la regia competente delle associazioni, ci possono essere forse anche cose miste e anche forse in questo l'esperienza dell'Emilia Romagna ci potrebbe raccontare quello che è successo e quindi anche, come dire, fare proposte più mirate sulla base di... Lucia invece ci dice vorrei ringraziare la chiarezza dei contenuti esposti, spero in altri futuri aggiornamenti in merito all'argomento. Ok, lo faremo. Ho risolto grazie. Ok, mentre vedevo una mano alzata, Lauro, dovresti poter attivare l'audio. Mi sentite? Perfettamente. Ah, volevo solo dire un paio di cose. Qui in Emilia Romagna è stato ben esposto da Rossana come stanno le cose. Volevo solo dire che c'è un problema grosso di risorse e questo credo che debba essere l'attenzione anche del tavolo nazionale che state, diciamo, elaborando sulle proposte di legge che state elaborando. Ci sono in particolare due temi che stanno molto a cuore ai caregiver, che sono il sollievo e le emergenze. Sono due tra i diversi temi che interessano molto e che agire. E se non ci sono risorse sufficienti, questi due temi possono essere affrontati solo con delle briciole come è stato fatto anche in Emilia Romagna. Ecco, è stato dato soddisfazione a pochissimi casi, a pochissimi casi rispetto al monte complessivo delle necessità. Questa è una cosa. L'altra volevo suggerire come possibilità per il consenso del caregiver, non solo quella del tutore o del amministratore di sostegno molto complesso e farraginoso e anche l'ipotesi che avete fatto del neurologo. Volevo accennare anche alla possibilità di fare delle procure prima ancora che la persona non sia in grado di intendere di volere. C'è anche lo strumento della procura, che è forse quello un pochino più snello. Termino col dire che siete stati veramente tutti in gamba. Ci avete fatto un quadro molto esauriente della situazione e di questo vi ringrazio. Grazie. Grazie a te. Penso che continueremo a parlarne perché anche questo confronto, anche il tema effettivamente del sollievo e delle emergenze può dare veramente tanti spunti, oltre a quello delle risorse su cui puntare perché sennò poi non succede nulla, ovviamente. C'è Daniela che mi chiede, posso fare una domanda? Era sempre lei, la conversazione dovrebbe esserti permessa? Sì. Ok, vai così, è l'ultima proprio. E poi vediamo le conclusioni. Non vedo più gente, però vi sento, ma non vi vedo. Pronto? Sì, sì, ti sentiamo Daniela. Vai. Io non vi vedo, però è lo stesso, insomma, se mi sentite. No, è che io partecipo oggi per la prima volta a queste cose e mi stava venendo un po' un dubbio su quello che si intende per il riconoscimento del padre Giver. Ad esempio, io ho un marito che presuppongo possa essere considerato il mio caro Giver, però il dubbio che mi veniva è che nessuno era riconosciuto, cioè non è, non so in che senso potrebbe essere riconosciuto. Cioè, capito? Non so se... Pronto? Sì, sì, ti abbiamo sentito. Non so se c'è qualcuno che vuole... Ok, vai Rossano. Nel senso che a Daniela invierò tutte le informazioni perché Daniela fa parte del nostro coordinamento e quindi come riconoscere il caro Giver. Benissimo. Sì, e poi, cioè, quello che volevo capire bene è, cioè, perché prima si stava dicendo che un caro Giver deve essere riconosciuto, no? Cioè, ma, diciamo, a me non l'ha chiesto nessuno chi poteva essere il mio caro Giver. Cioè, io preoccupo che il mio caro Giver sia il mio marito perché è l'unica persona che, diciamo, mi dà una mano. Ma non so chi potrebbe essere per me un interiore caro Giver. Non avendo praticamente nessuno... Daniela, hai la fortuna di essere in una regione in cui, appunto, c'è una legge che riconosce perché, appunto, per il resto invece vaghiamo e quindi, come diceva Rossana, probabilmente vi sentirete per avere tutte le informazioni su quello che magari la legge regionale può aiutarti in più rispetto a una situazione che ovviamente di fatto è così, ok? Quindi, eh, Rossana, appunto, si metterà in contatto con te e assolutamente ti fornirà quelle informazioni, informazioni utili. Ah, ok. Grazie, intanto. Ehm, allora, io direi di finire qui perché immagino che, eh, possano essere tantissime le discussioni. Quello che ho capito è che bisogna riorganizzare un altro appuntamento. Ehm, adesso valuteremo anche con, con tutte le, le colleghe se, eh, eh, in tempi utili e ancora per l'iter che sta facendo questa proposta del tavolo. Quindi adesso valutiamo, insomma, se farlo in tempi abbastanza brevi, visto anche il vostro interesse. Ehm, vi manderemo tutto il materiale, quindi tranquilli anche il documento. Il documento in realtà alle, eh, organizzazioni del, che fanno parte del CNAMC è stato già inviato. Quindi qualora aveste indicazioni, ovviamente, commenti, considerazioni, potete mandarlo all'indirizzo del CNAMC. Ehm, poi lo manderemo comunque a tutte le persone che hanno partecipato oggi, quindi anche qui è un ulteriore bacino di, per raccogliere, insomma, osservazioni, indicazioni, suggerimenti. Io lascerei a questo punto la parola ad Annalisa Mandorino per, eh, un po' concludere questo incontro davvero denso. Grazie Daniela e grazie ovviamente a tutti, a tutte, eh, le colleghe che sono intervenute per darci, insomma, un resoconto di, anche del lavoro fatto al tavolo e fatto insieme. Questa mi sembra una cosa importante da sottolineare e grazie di tutti gli interventi. Allora, noi di solito concludiamo questi momenti dicendo che non c'è una conclusione, perché di solito trattiamo temi che poi sono oggetto di, ovviamente, di ulteriori sviluppi, di ulteriore attività, di ulteriore impegno. Mai come in questo caso mi pare opportuno ribadirlo, sia perché c'è un lavoro in progress, sia perché l'alto numero di partecipanti è ancora l'importante materia di cui discutere, anche su cui confrontarsi, mi portano a concludere solo che ovviamente non è possibile una conclusione, ma che è anzi un percorso che dobbiamo continuare a seguire, dobbiamo continuare a seguire insieme. Vi dico solo brevemente qual è un po' l'approccio che noi come cittadinanza attiva abbiamo avuto a questo tema fin dall'inizio, di pensare ai caregiver non soltanto come soggetto, prima si è parlato della responsabilità, non soltanto come soggetto di cura e di responsabilità, cioè un soggetto che esercita anche in maniera volontaria, diciamo, non all'interno di un inquadramento professionale, come si diceva, un ruolo. Quindi non soltanto un soggetto di cura e di responsabilità, ma anche un soggetto titolare di diritti che in questo momento sono diritti non ancora riconosciuti e anche titolare di potere, perché mi colpiva quel passaggio che faceva Stefania quando sottolineava la necessità di un ruolo attivo nel progetto di vita, ma il caregiver è egli stesso e dovrebbe avere, spesso non gli viene riconosciuta la possibilità di un progetto di vita su se stesso o su se stessa, che è l'approccio che abbiamo cercato di mantenere fin dall'inizio, quello che non ne fa un soggetto da definire in maniera residuale rispetto alla persona che cura e come spesso la normativa vigente, ce lo diceva Isabella, fa, ma come un soggetto che invece ha un suo progetto di vita che dovrebbe essere garantito e sostenuto da una norma che si focalizza su di lui e non soltanto sul suo ruolo. Questo penso che sia una modalità che caratterizza il nostro approccio al tema. Poi volevo fare tre brevi sottolineature perché volevo riportare l'attenzione su questi tre aspetti molto in breve. Uno è che Isabella Mori parlava all'inizio di un problema, di una questione di genere e sempre più questa è anche una questione di generazione, nel senso che il numero dei caregiver e delle caregiver giovani è crescente e lo diventerà ancora di più necessariamente per un fatto anche banalmente demografico. Quindi noi in fondo abbiamo cominciato a occuparci di questa questione proprio partendo dal disconoscimento del diritto allo studio di una giovane caregiver. Quindi il tema del genere si pone accanto al tema della generazione, di quante persone giovani fanno parte, hanno questa condizione e hanno tutto il diritto di avere riconosciuta la loro possibilità di una vita prima di studio, poi di realizzazione professionale piena. L'altra cosa che volevo dire è su questo abbiamo fatto un percorso molto stretto con Stefania, anche con Stefania Bastianello e questo tema si pone anche in maniera complementare ad un'altra normativa che è stata messa a punto, che è quella di cui abbiamo parlato altre volte sugli anziani non autosufficienti e queste due normative sono state considerate fin dall'inizio complementari, diciamo così, nel senso che è stata espunta dalla legge 33 sugli anziani non autosufficienti la parte dei caregiver proprio perché si diceva sarà poi creata una norma ad hoc sui caregiver. Quindi dal nostro punto di vista c'è un profondo collegamento tra queste due leggi e vedere così tanto svilita la legge 33 rispetto anche a questo percorso dei caregiver è un tema di preoccupazione forte perché erano invece appunto nel disegno originario due questioni strettamente connesse tra di loro. Quindi c'è anche questa necessità di tenere insieme tutte le norme che via via si elaborano altrimenti si rischia di fare delle cose molto parcellizzate, molto frammentate. E l'ultima considerazione che volevo fare proprio perché abbiamo parlato di una regione in particolare dell'Emilia-Romagna è che ovviamente Cittadinanza Attiva da sempre sostiene le buone pratiche diciamo perché le buone pratiche ci fanno capire che una cosa è possibile pur con tutti i limiti che ancora abbiamo sentito esserci nella regione Emilia-Romagna che pure pare la più all'avanguardia. Nello stesso tempo rimane un motivo di amarezza e anche di impegno profondi nel senso che poi non è possibile che nel nostro paese si viva un problema, una questione, un ruolo in condizioni tanto diverse a seconda della fortuna di essere nati in un posto o nell'altro. Quindi nel momento in cui citiamo una regione, un ambito territoriale, una comunità come buona pratica il nostro pensiero diciamo è sempre agli altri, a chi resta fuori da percorsi più virtuosi, più efficaci come diceva Patrizia, più veloci, più tempestivi e più semplici perché in realtà tutte le cittadine e i cittadini, tutte le persone che vivono nel nostro paese dovrebbero avere in questi ambiti garanzia degli stessi diritti. Per concludere Daniele io penso che un ulteriore momento vada proprio programmato perché mi sembra che sia utile e che la partecipazione attiva di questa sera lo richieda. Grazie davvero a tutti per questa partecipazione. Grazie, allora riceverete una mail come sempre con la registrazione, il materiale anche le slide che ha presentato Isabella e quelle informazioni rispetto al sito delle miglioromagne da cui sicuramente condivideremo. penseremo quindi adesso ad un prossimo appuntamento, capiamo se il prossimo diritti al punto lo dedichiamo ulteriormente a questo oppure invece ci ritagliamo un momento ad hoc. Grazie veramente a tutti e ci sentiamo prossimamente. Buona serata, grazie. Buona serata a tutti. Buona serata, grazie. Grazie Stefania, grazie Patrizia, grazie a tutte. Grazie Rossana. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.